Dal Ministero dell'Istruzione abbiamo avuto la conferma dell'ammissione definitiva a finanziamento di un progetto che prevede in realtà il completamento del cosiddetto polo scolastico. Con la somma stanziata di 2 milioni di euro, infatti andremo a realizzare la nuova sede del nido e del micronito per i bambini e nello stesso stabile verranno poi realizzati altri spazi idonei e funzionali per la creazione di attività sociali e per sostegno alla famiglia. Possiamo affermare che questo è il primo finanziamento che il Comune di San D'Arsene ottiene a valere sui fondi del PNRR. E quindi è un modo per dare compiutezza ed assetto definitivo all'idea programmatico originale che era e rimane quella di rendere tutte le strutture scolastiche di competenza del Comune conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di antinfortunistica e con una funzionalità maggiormente adeguata a quelle che sono le attuali normative di settore.